E' un concerto che rientra nell'ambito del Tanti Auguri A, per cui vi chiederei sin d'ora subito un applauso per il maestro Fernando Francia. E' qui con noi. Con pagine di strumenti a fiato come la banda cittadiasti Giuseppe Cotti, in maniera tale da poter rendere fruibile un patrimonio di musica, un patrimonio di tradizione che altrimenti avrebbe realmente corso il rischio di andare perso nel corso del tempo. Continua la sua attività, ascolteremo diversi brani del maestro Francia, a partire proprio da Via Rigi, perché Via Riz, come si dice dalle nostre parti, è il paese del maestro Fernando Francia. E' un piccolo paese, 880 abitanti, grosso modo, che ha però queste punte di diamante davvero importanti. Un paese sonoro, un paese che ama la musica e che ha fatto della musica un po' la propria linfa, la propria cifra in ogni sua manifestazione. Non a caso, la direzione del maestro Sandro Satanassi, l'applauso al compositore che abbiamo qui, Fernando Francia. Partiamo proprio da un'esplorazione musicale di Via Rigi. Grazie, come sempre, grazie per essere su questa meravigliosa piazza che evidentemente ci accoglie sempre sotto i migliori auspici perché c'è anche un po' di venticello, per cui direi che meglio di così non ci si sarebbe potuti augurare veramente nulla. Il maestro Sandro Satanassi, dal genio creativo di Fernando Francia, c'è Via Rigi. Grazie. Grazie a tutti. 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 Edifici storici meravigliosi lì da quelle parti.